freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance un ultimo talk di cristiana titolo allora mannaggia quella volta che mi sono sbagliata e ho usato un'immagine senza pagare i copyright grazie cristiana zama grazie ad agosto mi vedo recapitare un'email la quale non do molta importanza perché sembrava uno spam e qualcuno di voi magari l'ha già ricevuto è già successo era impostato come una newsletter tutto scritto molto in piccolo in inglese fortunatamente sono anche una guida turistica di ravenna qui lavoro spesso con americani quindi l'inglese lo sto piuttosto bene c'era questo bellissimo questa immagine di questo cagnolino sopra in apertura e a un certo punto era un po di corsa non ci guardo poi dopo la ricevo doppia con due indirizzi mail e quindi dico ma allora che strano questo spam che arriva sempre a me due volte e mi metto a leggerla e nel leggerla mi rendo conto che era abbastanza aggressiva e mi diceva che avevo usato un'immagine che aveva dei diritti e che dovevo dimostrare se avevo pagato i diritti oppure pagarli e in fondo mi diceva che appunto se non avessi risposto avrebbero continuato per via legali e che mi potevano quindi poi accusare di questa cosa terribile che avevo fatto perché avevo pubblicato una foto di cameron diaz su un blog che ho sul pilates in un articolo breve che avevo fatto di gossip sui vari vip che fanno pilates quando ho preso la trovato la foto che era in un sito che appunto diceva che non aveva diritti mi era venuto un po il dubbio di indagare meglio però tanto la metto lì piccolina così come ero di corsa mi dice che non ha diritti quindi mi fido non fatelo e questo nel 2021 aprile del 2021 avevo pubblicato l'articolo e naturalmente internet si è evoluto se una volta davvero molti non se ne sarebbero accorti e magari questa cosa non sarebbe mai successa adesso invece ci sono dei sistemi automatici che tracciano tutto al di là del fatto che poi mi ricordo di tantissimi anni fa mio marito faceva parte di un club di un diving che si chiamava identici che non c'è neanche più e loro fecero questo bellissimo poster per ravenna con questa modella che aveva questi due pesci così tanto chi l'avrebbe mai visto neanche sapevano che esistevano i diritti la modella venne a ravenna vede il poster per caso e quindi succede in tanti modi quindi ancora di più bisogna prestare attenzione mi chiedevano per la foto 260 euro quindi di pagamento di diritti a posteriori e 290 se volevo mantenere all'anno se volevo mantenere la foto e subito mi spavento e cancello come prima reazione l'articolo dal blog poi mi calmo un attimo perché l'obiettivo del di questo testo fatto è proprio quello di metterti ansia quindi praticamente dopo aver fatto questo comincio a ragionare e intanto ricomincio a cercare la foto che avevo ma non l'avevo non l'ho trovata nel mio computer e comincio a cercare il sito dove l'avevo trovata non lo trovo e allora siccome c'era scritto di chi era la foto vado sul sito di questa venne when international che ha tutte le foto se in caso vi servissero di personaggi famosi e costano anche davvero poco adesso poi ve lo dico e quindi dico va bene adesso contatto la one international e chiedo quanto costa comprare una foto da usare per il mio utilizzo considerate che tra l'altro articolo interno non foto di copertina e il mio blog non è che ha tutto questo traffico perché non ho tutto questo tempo per star lì a parlarne ed è molto di settore quindi lo conoscono gli insegnanti pilates quindi mando e mi risponde questo e comincio a messaggiare con questo senza dirgli quello che avevo fatto semplicemente chiedendogli quanto costava viene fuori che la una foto da loro costava 25 sterline e costava una tantum cioè come poi è anche normale perché se in un articolo io dovessi pagare ogni anno il diritto della foto pensate a tutte le testate online cioè non avrebbero già tutti quanti chiusi tra l'altro contatto anche una mia amica che lavora la erst e chiedo riferimenti anche a lei lei contatta il suo ufficio legale e mi dà informazioni a riguardo dicendo che si sapevano anche un po di questo e mi consigliavano di pagare ma di trattare e nel frattempo era quello che comunque anch'io avevo pensato dando poi tutte le mie motivazioni perché ho detto vabbè pago prima avevo pensato pago così mi libero che tanto ne ho altri problemi nella vita è meglio per 260 euro sono sempre io e poi invece ho cominciato a indagare meglio e anche a guardare su internet perché ho detto non sono l'unica a cui è capitata questa cosa e comincio a trovare consigli vari la maggior parte degli italiani propone di non pagare e racconta di essersi vista una marea di email i solleciti perché poi il sollecito ti arriva la prima email ti dice che devi rispondere nel mio caso era dopo una settimana quindi entro il 16 di agosto e di pagare entro il 7 di settembre quando il 16 di settembre avevo intenzione di rispondere ancora la mattina presto prima ancora che finisse il 16 di settembre scusate di agosto mi arriva un altro email di sollecito e mi dice che dovevo pagare dopo un'altra settimana e quindi comincio a capire anche il meccanismo che quindi posticipano un po e cercano di farti pressione nel frattempo io avevo perso un po di tempo perché aspettavo che l'inglese mi rispondesse eccetera eccetera e ho detto vabbè tanto devo pagare entro il 7 di settembre posso comunque guadagnare un po di tempo e mi rendo conto mio marito fa il commercialista e mi comincia a dire guarda che anche se andassero una causa non è che possono riuscire ad aver ragione se non del fatto che tu hai usato la foto perché poi aveva parlato anche con il suo collega avvocato perché non c'è comunque danno cioè io ho sì usato una foto senza aver pagato i diritti ma non ho danneggiato nell'utilizzo né Cameron Diaz né la società però poi questa cosa si può portare avanti ma diventava anche piuttosto lunga perché poi in un articolo molto più a dettagliato se poi a qualcuno interessa l'ho trovato in inglese di un altro che consigliava un pochettino meglio e con tutto quanto quello che gli era capitato viene fuori che loro ti possono fare causa non solamente in italia ma in uno di qualsiasi paese questi sono tedeschi si chiamano copy track e sono solo una delle tante società che lo fanno e che lo fanno in questo modo anche sembra quasi un call center perché quindi ti rispondono con molti automatismi perché la prima volta che io ho risposto dicendomi sto partendo per le vacanze e vi rispondo agli primi di settembre tanto c'era il 7 di settembre come data dopo a quell'email ho ritrovato un altro email che mi risollicitava come per dire allora non avete letto l'email che vi ho scritto e quindi dopodiché rispondo con tutte le mie questioni allora dicendo il traffico era basso del sito e quindi do tutte quante le mie motivazioni del fatto che secondo me quello che mi chiedevano è una cifra improponibile e che appunto gli dico guardi che la foto da Wine International costa 25 intanto il tipo mi aveva era andata avanti la conversazione era venuto fuori che lui aveva capito perché a un certo punto gli dico guarda che vorrei pagare una foto così che ho usato per questo utilizzo e allora lui mi risponde bellissimamente ti ha contattato copy track allora io gli rispondo e da quel momento comincio a parlare in chiaro dicendo sì mi ha contattato mi chiedono questa cifra non mi sembra una cifra enorme posso pagare con voi oppure devo comunque andare avanti con loro capendo che avevano un contratto e quindi dopo anche loro erano in difficoltà infatti mi risponde che devo andare avanti con copy track e non posso pagare con loro quindi vado avanti con copy track nel momento in cui gli faccio tutte le mie motivazioni eccetera e gli dico che conoscevano avevo detto che aveva contattati contestualmente ma che conoscevo la faccenda mi propongono di transare a 150 euro e quindi andava già abbastanza bene dopodiché ci rifletto dicono però aspettate un attimo io non li voglio pagare perché comunque costa molto di più di quello che dovrebbe essere quindi gli rispondo a questi mail e dico guardate io so che ho sbagliato anno prima li comincio a rispondo sempre con un tono un po' perentorio perché loro erano davvero molto insistenti e anche molto aggressivi quindi allora a quel punto ho detto va bene io ammetto il mio errore però comincio anche a essere un po' cioè a rispondere in modo perentorio e far capire che non è che stavano avendo a che fare con l'ultima arrivata cosa che invece sono però volevo fare capire così e quindi dico allora vi ho risposto che andavo in vacanza e mi avete continuato a mandare delle push email e vi ho risposto tutte le mie motivazioni dicendomi che poi appunto mi facevo viva tornata dalle vacanze ma avete continuato a mandarmi delle push email quindi a questo punto siccome so che perché loro mi dicevano che era la società che transava 150 euro siccome so che non siete la società dice che c'è so che non è la società ma siete voi che volete questi soldi perché naturalmente hanno una loro commissione e ci guadagnano in tutto questo se no non lo farebbero allora io dico io non vi pagherò più di 100 euro perché già è molto di più di quello che costerebbe la foto e così è nel senso mi hanno risposto dicendomi ok la società va bene fa un setto non payment quindi va bene questa e transiamo a 100 euro e questa è la mia esperienza quindi qui la chiudo e l'ho raccontata più che altro perché magari a qualcuno di voi non è mai capitato magari può capitare e quindi poteva essere utile e grazie per l'attenzione